Prof, questi incontri ne stiamo organizzando a una marea. Ne stiamo organizzando anche con il professor Aula e la professoressa Rizzo, che sono rispettivamente preside del Platone e la responsabile dei seminari. Ed è giusto fare così, perché abbiamo notato che negli ultimi tempi qualcosa nel sistema di omertà, di chiusura, si sta scricchiolando. E noi riponiamo la massima fiducia in questi giorni, nel nostro futuro. Saranno loro probabilmente a scoprire la verità e soprattutto saranno loro che lotteranno per la vera libertà, al di là dei soliti ritualismi ricorrenti ogni anno, corone, comizi, che lasciano il tempo che trovano. Bisogna investire sui giovani. E come dicevo io, anche i progresi e preside, perché questi giovani devono cercare di comprendere la realtà mafiosa palermitana, quello che è successo, la storia per non dimenticare, ma cercare anche di liberarsi da questo cancro. Intanto, come ho sempre detto, questo è un progetto di istituto, cioè prettamente didattico, dove naturalmente, trattandosi di una scuola che si trova a Palermo, in Sicilia, l'elemento della mafia è uno degli elementi fondamentali. Però ricordiamoci, e io lo voglio ricordare proprio ora, perché è importante, che lo stesso Presidente della Repubblica recentemente ha detto che dobbiamo ricordare tutto quello che è avvenuto, attentati, stragi e tutto il resto, ma anche di cogliere le complicità che ci sono state nei depistaggi o addirittura nell'esecuzione dei fatti. Quindi questo è importante, per dirlo pure il Presidente della Repubblica, che bene o male un certo potere lo ha, vuol dire che siamo arrivati avanti, tra sentenze che ci sono state per Bologna, sentenze che ci sono state per il depistaggio di Caltanissetta e tutto il resto, è chiaro che già una grossa breccia si è aperta. Possiamo dire che c'è un'associazione a delinquere contro la mafia? Sì, possiamo dirlo, possiamo dirlo in maniera assolutamente ironica in qualche modo. Perché? Alla Peppino in passato. Alla Peppino in passato, che ci ha insegnato tanto e che abbiamo, la cui morte purtroppo abbiamo celebrato due giorni fa o tre giorni fa, e che ha dato l'esempio attraverso il suo impegno, non soltanto sociale ma da uomo, da giovane e ragazzo impegnato con Radio Out prima e poi appunto direttamente, ha dato l'esempio di come la mafia debba essere combattuta senza avere paura di metterci la faccia e di denunciare apertamente le persone che stavano a cento passi da casa sua. Mettiamola così, le parolacce non si dicono, dice il presidente, però lei guarda la telecamera, dica ai suoi studenti, visto che parliamo con la vicepreside, la mafia è mafiosa, è una montagna di merda. Sì, come diceva Peppino Impastato, la mafia è una montagna di merda. Le voci di Capaci, ma quelle reali? Le voci, sì, le voci reali degli agenti di polizia, che arrivavano per primi a Capaci, sul posto e diedero le loro notizie su quanto stava accadendo, con una concitazione, si coglie da queste voci, comunicavano con la centrale operativa della questura, la concitazione, la confusione, in qualche caso lo smarrimento e anche l'orrore per quello che si vedeva in quel giorno, in quei minuti sull'autostrada. E' proprio attraverso queste voci che si riesce a percepire quello che effettivamente provavano anche gli operatori. Un lavoro certosino, come mai? Un lavoro nato dal fatto che queste voci fanno parte delle comunicazioni radio tra la questura di Palermo, la centrale operativa e gli agenti a corsi lì a Capaci. Sono state registrate perché fino a pochi anni fa, nelle redazioni, a cominciare da quella del giornale Lora, si ascoltava il famoso scanner che permetteva di capire cosa accadeva in città. comunicazioni di polizia e carabinieri. Quel pomeriggio io, dalle conversazioni, capì che era successo qualcosa di grave e quindi registrai meccanicamente queste comunicazioni. Poi sono state conservate in un cassetto. Qualche anno fa ho deciso di tirarle fuori. ho trovato delle immagini di una tv privata trapanese, l'importanza delle tv private, ho messo insieme il prodotto, l'ho dedicato all'ufficio scorte della questura di Palermo e adesso questo è un lavoro che bisogna far conoscere ai giovani che quel giorno non c'erano e non esistevano. Stereo sette, musica sette. E parlare ai giovani, cercare di far capire quello che succede, sensibilizzare. Sì, perché questi giovani la strage di Capaci è diventato qualcosa di immateriale, qualcosa che si celebra ogni anno. La strage di Capaci è diventata soprattutto passarella di personalità, magistrati, politici, ministri, sottosegretari. E quindi si è un po' sicuramente perso il senso di quello che tutti noi invece abbiamo vissuto quel pomeriggio. Professionalmente è una mente, perché è stata anche un'esperienza per chi l'ha vissuta professionalmente che ha cambiato anche forse la nostra visione del lavoro e della vita.